Mettetelo a mancos! Non c'è! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi faremo il mito di bere Metos più coca cola e guardate il video! Le ingoiate? Aspetta! Ragazzi ora vedremo! Ingoia! Stop un attimo! Ha bevuto, ha mangiato, ha bevuto ragazzi! Vediamo che combina! Oh cazzo Vittorio! Ingoia! Ingoia tutto! Ingoia tutto! Attenzione! Morirà! È vivo? Sei vivo? È vivo! Ragazzi FabioCraft Iscrivetevi Adesso Iscrivetevi pure a Vittorio Perché meritano tanto Vai Vai! Non c'è! Ma ti rimani mai un'altra! Non c'è! Non c'è! Non c'è! Vorrei che vi dico! o caro noia che figo è messo solo una mentola per questo tanto funziona e bevo e abitino venga scoppietta scoppietta in bocca come bersi una bomba atomica per un buon ma cos'è sto colore qua a terra è giallo e lo so già lo so però che cos'è sto giallo qua a terra bravo scuola nuovo camera man ho fatto nuovo camera man io e riprendo meglio ragazzi la mentos si è sciolta il mitos delle mentos è vero l'abbiamo ingoiato però non ci succede niente è vero ragazzi iscrivetevi pure al mio canale più ragazzi spero che il video vi è piaciuto raggiungiamo ben 5 like per continuare questa serie proveremo invece la sprite e me se arriviamo solo a 5 like spero che il video vi è piaciuto vi saluto anche il nostro caro video ciao ciao raga